Lui comincia ad andare, sta registrando praticamente. Ma per far venire i numeri resta? Non mettere davanti le dita, hai visto che si vede? Così la devi prendere e neanche pieggiare questi tasti qua. Poi lo tagliamo. Lui va già eh? C'è sì. Lui va già eh? Che il palo, palo. Allora. Allora. I-é-é-é-uh! I-é-é-é-é-é! te lo faccio aiuti no? adesso voglio guidare la macchina boh massimo lo faccia ripartire dopo allora ci sta? si cosa devo fare? niente? andiamo in riserva adesso chiudi no di chi sa che fa? no si spegne da solo ah boh chiudi